La Fidelisandria è partita col piede giusto. Quattro punti in due partite per i federiciani, che nelle prime battute del girone H di Serie D hanno vinto a Bitonto e pareggiato contro il Cerignola. Durante l'ultima puntata di Monday Night, il direttore finanziario del club Pietro Lamorte ha accolto con entusiasmo l'inizio di stagione, pur consapevole delle difficoltà che potranno presentarsi lungo il cammino. Bisogna essere soddisfatti, se guardiamo anche le due partite, abbiamo fatto quattro punti in due partite complicate. Con Cerignola abbiamo cominciato bene, siamo riusciti anche, secondo me, per una buona ora di gioco ad avere il comando, il pallino in mano, pur essendo equilibrata, però si percepiva che la pericolosità veniva creata sempre da noi. Abbiamo visto due fassi diversi. Non solo la questione legata al calcio giocato, ma anche quella di carattere economico. La Fidelisandria, come tante altre squadre della Serie D e non solo, dovrà fronteggiare la situazione post-Covid, con la necessità di bilanciare le finanze in un momento storico delicato. L'obiettivo è quello della riapertura immediata degli stadi per dar fiato alle casse dei club, una mossa da attuare con regole chiare e uniformi. Se dal vertice vengono fatti dei ragionamenti competenti e che non devono essere dettati dal momento oppure da situazioni che non mi è dato sapere, certe anomalie penso che non devono accadere. Io non so come si è mosso il Brindisi, però io dico che se il problema è così chiaro e la gestione ha degli aspetti critici, bisogna mettere delle regole che siano chiare, che non siano interpretabili e quindi possano creare delle situazioni difformi senza alcun senso. Perché in questo modo qua si crea poi una situazione davvero che è difficile da governare. Negli ambienti biancazzurri, per forza di cose, tiene banco anche la gestione e l'utilizzo del degli ulivi. Andrea, che fino a pochi giorni fa poteva fare affidamento soltanto sul commissario straordinario, adesso può contare su un sindaco. L'elezione di Giovanna Bruno al ballottaggio apre di fatto ad un nuovo dialogo tra la Fidelis e l'amministrazione comunale. Il discorso sport ad Andrea è un discorso che purtroppo col commissario prefettizio è stato trascurato perché da un lato oggettivamente arriva altre priorità, ma probabilmente è stato sottovalutato l'impatto sociale che ha lo sport in ambito soprattutto giovanile. Quindi io penso, finalmente abbiamo un interlocutore e sono fiducioso che con Giovanna Bruno possiamo avere quel dialogo che ci è mancato. Grazie.